Cominciamo oggi con l'esecuzione di due salmi del XVII secolo dell'autore Ali che utilizzano la prima posizione e che iniziano in tirè per agevolare la condotta nelle lunghe tirate ovvero dal secondo sol sino alla in modo che le scale siano fatte sempre secondo l'ordine pus-se-ti-re e comunque tutti i tratti o gli incisi melodici a 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 Grazie a tutti.